tra tanti giocatori che vivranno dopo subito dopo il campionato un periodo nazionale c'è anche tiziano mazzone nazionale under 22 puntate alla qualificazione mondiale tiziano assolutamente sì abbiamo appunto questo torneo di qualificazione mondiale in vista dei prossimi mondiali under 23 sicuramente punteremo a fare il risultato migliore possibile ovvero a qualificarci anche se sarà abbastanza dura perché ho solo sentito non ho non ho letto niente che ci saranno comunque polonia bulgaria insomma squadre molto competitive torneo si svolgerà in croazia e vi trovate fra il 18 e il 20 maggio per fare una prima sessione di allenamenti esatto dal 18 20 maggio come detto tu la prima sessione di allenamenti poi la riprenderemo a giugno un po diverso rispetto alle scorse stati ma dai pur sempre un impegno importante e per te anche l'occasione di vedere se sei riuscito a mettere in pratica tutto quello che hai immagazzinato come esperienza tecnica mentale e temperamentale negli ultimi due anni con trentino volley sì sicuramente porterò tutto quello che ho acquisito qui in trentino volley lo porterò in nazionale cercherò di di rapportarmi nella maniera migliore possibile alla squadra ecco che seconda stagione è stata per te questa appena conclusa con trentino voli parlo di seconda stagione ovviamente riferito alla prima squadra è stata secondo me tutto sommato anche se noi i giocatori ci teniamo tanto quindi il rammarico è tanto essendo arrivati i tre finali su tre è stata è stata un po dura lasciarle andare ecco però questo è lo sport fa parte del nostro lavoro e dobbiamo anche saper convivere con queste sconfitte per poi saper assaporare meglio le le vittorie che arriveranno sicuramente una gratificazione anche quella di aver giocato e vinto gli ultimi due set a belgorod è stato forse quello momento più alto della tua stagione si diciamo di quest'anno si è stata un'emozione fortissima anche perché dall'altra parte della rete c'erano dei grandissimi campioni internazionali quindi già solo scendere in campo anche se non avessi toccato palla sarebbe stato molto emozionante appunto come ho detto programmi per l'estate al di là della ovviamente della convocazione con la nazionale 22 un po di riposo poi penserai alla prossima stagione sì sì esatto sicuramente non c'è non voglio stare troppo fermo anche perché appunto poi sarebbe difficile riprendere ritmi che abbiamo tenuto fino ad ora quindi anche adesso già mi sto tenendo un po in esercizio fisico in sala pesi non faccio tecnica da qualche settimana ma una settimana più o meno ma presto riprenderò chi ti ha visto in palestra e dice che sei un grande agonista e che sei un giocatore perfetto per allenare la squadra che non ti tiri mai indietro è una bella un bel complimento sì anzi bellissimo secondo me perché come ho detto tante volte non è facile essere sempre in panchina lì bisogna saper spronare i propri compagni sapersi anche spronare da soli perché ogni allenamento poi stare sempre da dalla stessa parte è un po dura però come ho detto già altre volte per me è sempre stimolante stare qui con questa squadra anche quest'anno sono stato molto contento come ho già detto l'anno scorso ho lavorato tanto abbiamo lavorato bene e speriamo che in futuro i frutti arriveranno proprio a proposito del futuro prossimo anno dove ti vedi dove mi vedo sinceramente non lo so nemmeno io spero che spero di trovare la situazione migliore a me e a tutto il contesto questa città sono sei anni che ormai sono qua mi trovo benissimo è come una seconda casa quindi non lo so vedremo cosa succederà dai